Siamo con Antonio Visconti, allora un po' un giudizio filtrante e penetrante su questa amministrazione. Tutto sommato è già tempo di qualche bilancio, allora che cosa c'è da dire? Ma la costatazione è una amara costatazione, basta girare per la città, la città è ferma. Noi non abbiamo registrato uno slancio di attività da parte di questa amministrazione. Notizie di finanziamenti persi ancora una volta, notizie di mancanza di progetti dalla verifica del piano triennale delle opere, non esce niente di buono. Sembra che l'obiettivo della francese, del capo dell'amministrazione, di questo secondo mandato sia tutt'altro che la città di Battivaglia. Probabilmente si ha già un occhio rivolto alle elezioni politiche. Non si capisce neanche dove, perché qualche giorno si cincischia con la sinistra, qualche altro giorno cincischia con la destra, ma ci ha abituato a questo moto ondivago. Il problema è che la città continua a perdere opportunità e non sta avendo quel nuovo corso che ci aveva promesso, sui quali i cittadini hanno dato fiducia. Cioè la fuoriuscita dalla situazione di debitoria e la riorganizzazione della macchina comunale. Siamo appiattiti sull'ordinaria gestione, manca una visione di città, nessun intervento neanche di natura partecipativa viene attivato. Ci saremo aspettati iniziative anche sulla questione dell'Ucraina importante. E' una città dormiente. Sembra che l'unico obiettivo sia la candidatura alle elezioni politiche e perderemo altri anni preziosi. Ecco, un'altra situazione da analizzare, la partecipazione all'ambito. Sappiamo che lunedì è in programma una riunione importante nell'ambito dei Picentini. Il comune di Battipaglia aderirà? Ma un'altra vicenda anomala. Subiamo la collocazione nell'ambito del subambito Battipaglia-Picentini per inerzia dell'amministrazione. Perché quando i subambiti dovevano essere costituiti la nostra città non si è determinata, non ha avuto un'iniziativa sua. Dopodiché contestiamo la presenza in quel subambito ma non formuliamo nessuna proposta, anzi rilanciamo la voglia addirittura di essere capofila. Quindi delle due l'una o è un ambito per noi congeniale perché risponde alle esigenze di organizzazione della gestione del ciclo dei rifiuti che vanno incontro alle problematiche e anche alle potenzialità della città di Battipaglia e quindi ci candidiamo a gestirlo e a, come dire, in qualche modo guidarlo. Oppure se per noi non va bene, come si è detto fino all'altro ieri, non ha senso stare lì e addirittura cercare di essere il capofila. E' ancora una volta una manovra politica? A me sembra di sì. Cioè la voglia di ricercare una visibilità, una presenza all'interno di organizzazioni sovraterritoriali senza però una vera e propria linea programmatica e linea di gestione ma al solo fine di prepararsi a qualcos'altro. Quindi credo che sarà un'altra occasione mancata, un tema di gestione complicata che però inciderà molto sulla vita delle persone. Inciderà molto perché si tratta di riorganizzare il ciclo di rifiuti, si tratta di riorganizzare l'impiantistica e Battipaglia più che altre comunità ha un'incidenza notevole sia in termini di numero di abitanti, sia in termini di presenza di impianti e sia in termini di carenza dell'organizzazione del servizio. Cioè il servizio è gestito male, la città è comunemente e diffusamente considerata sporca e malamente tenuta. Quindi approssimazione, approssimazione, approssimazione al solo fine di ricercare il proprio tornaconto personale. Il PUC sembra che sia veramente in dirittura d'arrivo, ma il PUC risolverà i grossi problemi urbanistici del territorio. Sappiamo che il territorio di Battipaglia è stato negli anni addietro devastato, ma il PUC riuscirà a risolvere tutte queste tematiche. Ma francamente non è dato sapere, perché per il momento questo documento è un mistero, o meglio è stato utilizzato per fare campagna elettorale promettendo tutto e il contrario di tutto a tutti. La verità è che si continua a rilasciare licenze edilizie in deroga e ovviamente non so cosa normerà o cosa potrà normare il PUC rispetto soprattutto alla parte della città più antropizzata, cioè al centro e alle immediate periferie. Una città in cui gli standard sono saltati, sono partiti già da tempo. Il giudizio io non posso esprimerlo perché l'assessore lo annuncia, la sindaca lo annuncia, ma una presentazione neanche ai consiglieri comunali è stata mai fatta. Addirittura buona parte della maggioranza ne ignora i contenuti. Per cui non credo che loro siano in grado di approvare un piano urbanistico definitivo. Saremo sicuramente a delle battute preliminari, ma al momento è anch'esso merce di scambio e strumento di promessa, senza però fornire nessuna indicazione e anzi adottando costantemente delle scelte che finiranno per diminuirne la portata. Perché a questo punto sarebbe giusto come norma di salvaguardia sospendere tutte le autorizzazioni, le licenze, i nuovi interventi di edilizia privata nell'attesa di una norma che consenta, anche perché si tratta di interventi molto grandi, significativi, dalle officine Pietrasanta alla fabbrica a Via Matteo Ripa, a tanti altri interventi. Sono interventi che riguardano decine e decine di nuovi alloggi, se non centinaia di nuovi alloggi, rispetto ad una situazione nella quale abbiamo già un parco edilizio sicuramente non completamente valorizzato. Quindi, ancora una volta, non si capisce, o meglio, si capisce che l'obiettivo non è l'interesse comune e lo sviluppo coerente e prospettico della città, ma è un obiettivo personale.